Bentornato Google e bentornata Continuiamo a parlare della sezione modifiche impostazioni PC in questo caso con la sezione accessibilità Questa sezione migliora l'accesso al sistema operativo per le persone diversamente abili ma non solo, può anche senz'altro essere impiegato per adattare alcune particolarità del sistema operativo alle nostre necessità di impiego e vedremo perché Come già sai fare accedi alla sezione accessibilità avviando la charms bar entrando in modifica impostazioni PC accedendo a questa sezione con il pulsante accessibilità Cliccando su quel pulsante otterrai altre sottosezioni assistente vocale, lente di incranimento, contrasto elevato, tastiera, mouse e altre opzioni Ognuna ti consentirà di impostare dei parametri per migliorare l'uso del computer l'approccio al sistema operativo Partiamo da assistente vocale Attivandolo tramite un cursore otterrai come risultato la lettura tramite una voce digitale di ogni elemento visualizzato sullo schermo Una volta attivato potrai anche decidere di avviarlo all'accensione tramite un altro cursore e altri parametri saranno relativi al tipo di voce alla velocità e dalla tonalità Questi parametri li imposterai ovviamente in base alle tue necessità Potrai ulteriormente selezionare quali suoni fare mettere al PC in base a cosa dovrai eseguire oppure a cosa accadrà durante l'uso del sistema operativo ed impostare parametri per il cursore e i tasti premuti sulla tastiera Altra sezione lente di ingrandimento probabilmente già intuisci a cosa serve da questo screenshot Infatti potrai avviarla con un cursore attivando così una piccola finestra in cui potrai visionare ingrandita la sezione del monitor dove passerai il mouse Attivando altri due cursori potrai decidere se invertire i colori ed avviare automaticamente la lente all'accensione del PC I due cursori della sezione traccia ti consentono di seguire la digitazione tramite la tastiera oppure il puntatore del mouse che si muove lungo il monitor Altra sottosezione Contrasto elevato Tramite questa sottosezione puoi cambiare il contrasto dei colori se hai qualche carenza di visualizzazione Nascerà un menu a tendina con il quale sceglierai vari temi in base alle tue necessità con cui dovrai visionare ciò che mostra il monitor Le impostazioni riguarderanno i vari testi che compariranno e lo sfondo Altra sottosezione Tastiera Puoi far comparire una tastiera virtuale e utilizzarla come quella reale cliccando sopra i tasti tramite il mouse Attivala tramite un cursore relativo Ecco qua questo screenshot Tramite altri cursori puoi attivare dei tasti utili Ad esempio potrai avere la possibilità di premere singolarmente i tasti di scelta rapida che normalmente sono una sequenza di tasti oppure udire un segnale acustico premendo alcuni tipi di tasti o ancora filtrare alcune tipologie di pressione dei tasti Altra sottosezione Il mouse Potrai impostare la dimensione del puntatore del mouse il suo colore cliccando tra quelli mostrati dalla sezione Inoltre potrai abilitare i tasti numerici per poter muovere il puntatore del mouse nel dettaglio La sezione relativa ai numeri 2468 presenta anche delle frecce che se attivate potranno spostare appunto il puntatore del mouse lungo il monitor In questo caso comparirà nell'assistray un simbolo di un mouse con il quale cliccandoci anche sopra due volte rapidamente potrai impostare altri controlli del puntatore qui rappresentati in maniera molto rapida tramite questo screenshot come ad esempio utilizzare alcuni tasti di scelta rapida velocità e accelerazione del puntatore e altri parametri come abilitare ad esempio i tasti control e maiuscolo per accelerare o decelerare lo spostamento del puntatore del mouse all'interno di una pagina infine puoi decidere se utilizzare o meno questi ultimi controlli per lo spostamento del puntatore del mouse se la funzione relativa al tasto block num è attivato o disattivato tasto che è presente sopra il tasto numero 7 nella sezione del tasserino numerico altre opzioni sono naturalmente opzioni di contorno potrai decidere se attivare o disattivare le animazioni durante l'uso del sistema operativo oppure mostrare o meno lo sfondo del sistema operativo il tempo di permanenza in visione delle notifiche che lo stesso T presenterà e lo spessore del cursore lampeggiante del mouse andiamo a vedere un po' di pratica avviamo la chums bar impostazioni modifiche impostazioni pc ed infine accessibilità da questa prima sottosezione puoi attivare l'assistente vocale e una voce già preselezionata inizierà a leggere quello che selezionerai attivato assistente vocale controllo assistente vocale abilitato qui puoi decidere se attivare o disattivare automaticamente l'assistente vocale all'accensione attivato avvia assistente vocale automaticamente interruttore puoi decidere di cambiare la velocità e la tonalità della voce tramite questi due cursori 12 7 e selezionare il tipo di voce selezionato microsoft elsa desktop 1 di 3 andiamo a vedere altre impostazioni il tasto della tastiera per ascoltarne il nome premere il tasto blocco maiuscole F1 per visualizzare la serie di comandi pulsante generale come vedi consente di cambiare la modalità di avvio dell'assistente casella blocca il tasto casella combini attivato assistente vocale interruttore chiusura in corso dell'assistente vocale come puoi vedere in alcuni casi può sembrare invasivo se non correttamente gestito comunque nella sezione inferiore puoi anche preimpostare alcuni parametri relativi ai suoni che senti in base alle opzioni che sono evidenziate non ti resta che testare per quel che riguarda invece cursore e tasti puoi naturalmente anche impostare dei parametri correlati all'assistente vocale appunto non ti resta che testare queste opzioni cercando di comprendere come può essere ottimizzato alle necessità due o di eventuali persone diversamente abili passiamo alla sezione lente di ingrandimento tramite questo cursore puoi attivare una sezione lente di ingrandimento che ti permette di ingrandire con parametri relativi al ciò che hai impostato tramite questi due pulsanti l'ingrandimento di ciò che andrai a selezionare qua se lo schermo intero oppure una lente che va a evidenziare una sezione che sceglierai in base a ciò che vuoi visualizzare come vedi puoi scegliere la dimensione dell'ingrandimento per migliorare la lettura del riquadro selezionato portiamolo a schermo intero e quindi puoi vedere che la visualizzazione è completamente ingrandita dello schermo in base a come lo dovrai visionare puoi avere un'anteprima dello schermo intero in base a ciò che andrai a visionare se fosse attivato la lente di ingrandimento torniamo con la visualizzazione a lente tramite le impostazioni come vedi ci sono altre sezioni che ti permette di impostare l'ingrandimento della zoomata attivare o meno l'inversione dei colori ed ingrandire il dettaglio della lente di ingrandimento in larghezza e altezza direi di annullare questa sezione e tornare alla descrizione una volta attivata la lente di ingrandimento puoi gestire altre opzioni come l'inversione dei colori avviare automaticamente la lente di ingrandimento all'accensione ed impostare per quel che riguarda la traccia due parametri che servono durante la digitazione dei testi in modo da poter seguire il puntatore del mouse durante una scrittura torniamo ad una visualizzazione standard e andiamo a vedere l'altra sottosezione contrasto elevato qui da un menu a tendina puoi scegliere il tipo di contrasto in base a dei parametri già preimpostati una volta impostato potrai selezionare i colori in base al tipo di informazione rappresentata qui a fianco e in base alle tue scelte ovviamente dopodiché cliccando su applica applicherai questa scelta la sottosezione tastiera permetterà di visualizzare avviare la visualizzazione di una tastiera virtuale che potrai gestire come meglio credi e in maniera abbastanza simile alla tastiera standard cliccando semplicemente sopra al tasto tramite questi altri cursori ti permette di eseguire alcune impostazioni di tasti utili tramite questo cursore puoi abilitare la possibilità di premere una alla volta i tasti di scelta rapida senza premerli contemporaneamente tramite questo attivare un suono quando vengono premuti uno di questi tasti ecco un esempio e in ultimo tramite questo vengono ignorate le pressioni dei tasti brevi o ripetuti riportiamo tutto alle condizioni iniziali la sezione mouse ti permette di scegliere il tipo di dimensione del puntatore come vedi varia man mano che io lo seleziono il colore del puntatore stesso e abilitare o meno alcuni controlli del puntatore come ad esempio abilitare la sezione del tastierino numerico che ti permetterà tramite i tasti 2468 la possibilità di spostare il puntatore del mouse durante la digitazione all'interno di un testo usare il tasto control o il tasto maiuscolo per accelerare o rallentare il movimento del cursore all'interno della digitazione del testo oppure usare il controllo puntatore quando è disattivato o meno il tasto block num disattiviamo tutti questi controlli e andiamo all'ultima sottosezione altre opzioni che ti permetterà di abilitare o meno le animazioni che si possono riprodurre durante il normale impiego del sistema operativo mostrare lo sfondo o meno di windows selezionare il numero di secondi per cui devono permanere le notifiche che ti fornirà il sistema operativo durante il suo utilizzo e anche impostare il valore dello spessore del cursore che vedrai lampeggiare durante la digitazione del testo nella prossima lezione ancora descrizione della sezione modifica impostazioni pc ora un forte saluto già presto da gallo e dalla prossima la prossima la prossima la prossima Grazie a tutti.